quella carta prendila e buttala via non ti serve o meglio non ti porterà niente di buono perché devi fare prima cose per gli altri rispetto a te stesso ciao a tutti sono tommaso rosa e sono un trader ed investitore e che bello tornare di nuovo a fare video dopo tanti problemi personali covid eccetera siamo riusciti a tornare prima di iniziare se ancora non l'avessi fatto ti chiedo di iscriverti al canale e lasciare un mi piace così da aiutarmi a far arrivare questi contenuti a più persone possibili perfetto anche oggi la marchettata l'abbiamo fatta quindi possiamo iniziare con il video tre abitudini che ci rendono ricchi paga prima te stesso datti una sorta di stipendio appena ti arriva lo stipendio ma cosa significa questa cosa quando ci arriva lo stipendio tendiamo a spendere tutto o meglio la maggior parte subito magari in shopping in cose inutili che non ci servono realmente e voi direte ok sto pagando me stesso sto ricompensando il mio lavoro con delle cose che mi piacciono ma in realtà no non è così quando ti arriva lo stipendio prendi in una parte e mettila da parte e non toccarla più sarebbe fantastico se tu la risparmiassi o meglio investissi questa cosa qui devi farla prima di spendere tutti i soldi falla prima di arrivare a fine mese e prendere quella parte misera che rimane di quei pochi soldi che ci sono arrivati durante il mese che magari la rimanenza a fine mese è anche pari a zero butta via le carte di credito si chiamano carte di credito ma l'unica cosa che ti portano è un debito verso la banca già questa è la vera dura e cruda verità quando utilizziamo la carta di credito andiamo utilizzare dei soldi scusatemi il gioco di parole che non sono effettivamente nostri ma sono della banca che ci va ad anticipare questi soldi magari non li abbiamo neanche lei ce li anticipa e noi dovremo andare a restituire in futuro senza neanche averli però su questi soldi anticipati esistono dei tassi di interesse se non vengono restituiti quindi se voi andate a spendere dei soldi non vostri o che non avete rischiate di doverne dare più dell'effettiva spesa abituatevi ad usare la carta di credito solo in casi estremamente necessari o come detto prima buttate via la carta di credito non abbiamo niente da dimostrare a nessuno questo punto si ricollega a un libro che vi lascio qua sotto in descrizione molto bello si chiama il milionario della porta accanto e insegna proprio questo non devi dimostrare niente a nessuno al tuo migliore amico al tuo vicino di casa a un tuo collega non serve che dimostri di essere ricco o avere tutto magari andandoti a togliere delle cose veramente importanti questo fenomeno si chiama a tutti gli effetti ostentare ricchezza magari avere l'ultimo modello d'auto un rolex ogni anno l'ultimo modello di cellulare uscito non ci serve a niente tutto ciò non fatevi attrarre dalla effettiva apparenza siamo arrivati alla fine di questo video scusate se è corto ma ho preferito riniziare così questo lungo cammino su youtube beh spero che ti sia piaciuto e ti sia stato utile se così è stato ti chiedo di lasciare un mi piace e iscriverti al canale qua sotto così da farmi capire che questi contenuti vi piacciono e per aiutarmi a farli arrivare a più persone possibili ci vediamo in un prossimo video